Ciao a tutti ragazzi per provare il prossimo video su pipa oggi faremo uno spacchettamento corto qua guarda i pipa points questi qua sono i pipa points ti vissi? si ok e adesso incomincieremo con il pacchetto più forte che c'è questo no incomincieremo poi con il secondo c'è questo qua il pacchetto oro rari provo prendiamolo pipa points ninja walk out pensavo che era cosa oro raro ma raro ce sta questo qua ce lo mettiamo tutto nel club ok contratti ok ok metto il club metto il club metto il club e questo vediamo questo qua sono sempre credi che ce li prendiamo ok 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 dai questo qua è forte dammi con il casello no oh oro raro ok 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 vediamo questi qua vediamo questi qua che possiamo adesso con il club dai raga quasi ok però qua posso prendere questo quattro oro l'aro si è oro l'aro oh e la madonna si corre la madonna si corre so che sta vai corre la madonna vabbè mettiamo un po' di contrarre vediamo come stanno i giorni ok stiamo eliminando il club poi dopo qua è da andare alla lista di esperimenti poi dopo questi qua li postiamo completamente non devo andare alla lista cioè a te ti metto con questi qua li posso scattare vai perfetto poi c'è l'ultimo pacchetto che è questo qua che fa schifo quindi raga sarà oro l'aro infatti vedete oro l'aro trask però ci sta è difensore è difensore ma vabbè ci sta ma questo qua no possiamo mettere la club club poi abbiamo messo qua le mani che abbiamo messo da sui elementi poi questa palla mi piace ok ci prendiamo ok ci prendiamo 230 ok se adesso vedete per il fa points ce ne abbiamo zero abbiamo spacchettato tutto quindi adesso ragazzi questo video per dopo aver finito qua lasciamo tipo 7 like per il prossimo video spolliciate e seguitevi al canale commentate se voi avete trovato qualcosa in questi pacchetti di magari il tuo il figlio no quindi stai tranquilli non c'è manco niente quindi ciao e alla prossima aaaa